Cervinara Cervinara è una città di circa 12.000 abitanti in provincia di Avellino, adeggiata alle falde del Monte Partenio, in uno scenario naturale di grande fascino e suggestione. Sul nome si fanno diverse ipotesi. Secondo alcuni Cervinara discenderebbe da Ara Cereris, un tempio che sarebbe esistito nelle frazioni tra valle e castello, dedicato alla Dea delle Messi. Questa ipotesi discende da Fra Arcangelo da Montesarchio, che nel Cinquecento pretese di trovare un'origine latina per i nomi di tutti i comuni della Valle Caudina. Secondo altri, esso dipende invece da un'Ara Cervis, cioè Altare dei Cervi, animale riportato anche nello stemma comunale. Infine altri sostengono che il nome sia legato ad una cella vinaria, cioè una cantina per il vino, inclusa in una proprietà rurale monastica. È forse questa l'ipotesi più attendibile. Urbanisticamente Cervinara è formata da frazioni, ognuna con la sua atmosfera e la sua specificità, persistente dall'Alto Medioevo, epoca dalla quale per la prima volta viene documentata la loro esistenza. Il primo casale ad essere menzionato negli atti è Valle, nel 1273. Nel 1300 le fonti citano per la prima volta Frazione Ferrari, anche se della chiesa inezia esistente si parla già nel 1280. Anche Frazione Pantanari è citata nel 1300. Un documento del 1532 già ne menziona 11. I centri propulsori della vita cittadina sono Piazza Trescine e Via Roma. Il primo costituisce il cuore amministrativo della città, il secondo il luogo di aggregazione giovanile, con la sua monumentale villa comunale. Il largo ed alberato rettifilo che partendo da Via Roma conduce alla stazione è zona signorile ed elegante, con tutta la serie di bevillini che si aprono ai suoi lati. Zona signorile è anche quella dei Salomoni, dove possiamo trovare un gran numero di palazzotti appartenuti a famiglie nobili di un tempo. Eleganza e fascino si ritrovano maggiorati nell'incantevole Piazza Elena, nella Frazione Ferrari, dove la piazza, ampia ed ariosa, piena di alberi e panchine e luogo di ritrovo per moltissimi cervinaresi di tutte le età, costituisce lo spazio che separa il luogo su cui sorge l'antico ed imponente Palazzo Caracciolo dalla collegiata di San Gennaro, alla quale si accede attraverso una lunga scalinata, chiesa proiettata verso il cielo, data la sua posizione sopraelevata. Castello Ioffredo, la zona sconvolta dalla terribile alluvione della notte del 16 dicembre 1999, è la zona più a monte, verso la montagna, mentre verso il piano si sviluppa la Frazione Valle, pulita e curata, con l'antica chiesa di Santa Maria Valle, che la domina dall'alto. Il processo di aggregazione delle frazioni inizia nel Quattrocento, quando Cervinare è feudo della famiglia della Leonessa e continua fino ai nostri giorni. Il massiccio del Partenio, che fa da cornice alla città, costituisce la peculiarità del paesaggio. A ciascuna frazione cervinarese nell'antichità corrispondevano mestieri diversi. Mentre i Salomoni erano la zona di Segatori, Segatori, Ferrari era il luogo dei commerci. Nella zona di Valle si praticava la raccolta della legna, cui si dedicavano soprattutto le donne, mentre a Castello Gioffredo corrispondevano i mestieri di Bascaiolo e Carbonaio. Nel quartiere di San Marciano si potevano trovare molte botteghe artigiane, mentre a Piazza Trescine, centro spirituale ed amministrativo della città, ha prevalso da sempre la figura dell'impiegato. È anche documentato che i monaci ebbero un ruolo importante nella vita della comunità, visto che proprio ad essi si deve l'introduzione della coltivazione delle castagne, ma soprattutto perché la prima notizia scritta parla di uno scambio di terre tra i monaci di San Vincenzo al Volturno ed il principe Longobardo Sicardo. Lo scambio di terre cervinaresi risale al IX secolo ed è documentato dal cronicon Volturnense. Il simbolo del potere feudale a Cervinara fu per lungo tempo il castello di origine Longobarda, che si trova su di un'altura di 500 metri fra le montagne. Nei secoli successivi esso fu rappresentato da Palazzo Caracciolo che si trova in Frazione Ferrari. Luoghi di interesse turistico e paesaggistico sono Frazione Ferrari con il Palazzo Caracciolo e l'Abbazia di San Gennaro. Piano di Lauro ed il Castellone Frazione Salomoni Piazza Trescine Il Rettifilo, Ponto Ocampo Luogo privilegiato del passeggio e della sosta con gli amici. Fede e folclore della cittadina sono rappresentate nella festa in onore di San Gennaro, patrono della città, nella Via Crucis del Venerdì Santo, nella processione della Madonna addolorata, nella festa di San Rocco a Ferrari. A Carnevale luogo la Cezza, pantomima che si svolge tra la villa comunale e le piazze cittadine. Ad agosto si svolge l'estate cervinarese. Vi è poi la Sagra delle Castagne organizzata dalla Proloco a Ferrari e Castello Ioffredo. La Proloco organizza anche il bellissimo presepe vivente che si tiene a Natale nei suggestivi vicoli di Frazione Valle. Ogni mercoledì nella centralissima Via Roma si tiene il mercato. Cervinare ha dato i Natali a tantissimi uomini illustri, tra i quali ricordiamo Carlo Del Balzo, scrittore politico parlamentare, Gaetano Clemente, magnata nel settore di Ile, emigrato in America, Domenico Clemente, notaio e sindaco di Cervinare, Pasquale Clemente, notaio, uomo politico, senatore della Repubblica, Riccardo Bruno, avvocato, principe del Foro Avellinese, nipote di Domenico Bruno, oculista di grosso valore e ricercatore scientifico. Carlo De Bellis, avvocato, sindaco di Cervinare nel 1978, assessore e consigliere provinciale nelle fila del PSI. Narciso Marro, figlio spirituale di Padre Pio, missionario in Africa. Angelo Renna, insegnante e scrittore a cui è intitolata la locale Proloco. Onorio Ruotolo, scultore, illustratore, editore, giornalista, poeta, emigrato negli Stati Uniti, autore del Monumento ai Caduti che campeggia nella villa comunale di Cervinara. Tarcisio Zullo, sacrista, lettore, bibliotecario, conosciuto come la Guardia di Padre Pio. John D'Agostino, fumettista ed illustratore, grandi disegnatori di fumetti, tra i quali l'incredibile Hulk, recentemente scomparso nella cittadina americana del Connecticut, dove era emigrato nel 1929. Il giovane potito starace, oggi campione mondiale di tennis.